L'evasione fiscale, io apprezzo Bebbra che vanno in giro quelli di Dama, finita la sceneggiata tutta Trunno, noi siamo un paese consolidato nella pratica dell'evasione, c'è un solo modo perché non si evada più, quello che fanno tutti i paesi civili del mondo, che hanno fatto un dipartimento del Ministero di Grazia e Giustizia che si occupa solo delle evasioni, che non fanno come Caldisto Tanzi, un processo che dura 20 anni, con 10.000 contestazioni di evasione, che quando avremo finito del contestaglio non ci sarà più una sanzione penale né quella per un'area, funziona in maniera diversa da loro, da loro è previsto che l'udienza duri un giorno, che l'evasione fiscale contestata sia una sola e non fa differenza se è evaso 500 euro o ne è evasi 500 milioni, ma alla fine di quell'udienza siccome non è sanabile con sanzione, il Tribunale bene che ti va, ti irroga se sei fortunato 3 anni, se no ci mandi in galera per 7.